Grazie a tutti. Per parlare di ambiente, per parlare di sviluppo sostenibile, per parlare di ecologia, per parlare di innovazione. Ed allora quest'oggi io ringrazio il Presidente Giampiero Mancarelli, Presidente di Chima Ambiente, a farci compagnia. Ben trovato, grazie per aver accettato il nostro invito. Buon pomeriggio, grazie a voi. Ed entriamo subito Presidente nel vivo non solo di questo appuntamento ma di queste giornate particolari perché in occasione dell'1 e del 2 novembre, quelli che sono dei giorni un po' dedicati ad una festività uno, alla commemorazione dei defunti l'altro, ma anche i giorni precedenti, i mezzi del personale di Chima Ambiente non si sono fermati per far sì che poi quelli che sono i giorni dedicati al vivere, forse di più alcuni luoghi della città, possano essere fruibili in maniera del tutto ordinata, in maniera del tutto pulita. Quindi dicevamo, in azione, nel quartiere Tamburi, nelle zone limitrofe e nelle vicinanze del cimitero San Brunone perché molta gente, come da tradizione, giustamente si è recata nella struttura per rendere omaggio ai propri cari e voi, voi come io, quando parlo di voi parlo di collettività, parlo di uomini e donne, parlo di una squadra che costantemente ha lavoro e il personale dunque di Chima Ambiente ha lavoro sin dall'alba per ripulire la zona, per un riassetto complessivo del territorio e soprattutto intervenendo in quelle che sono le zone maggiormente frequentate. Assolutamente sì, dice bene, insomma, questi giorni sono particolarmente intensi per la cittadinanza che guarda, insomma, ai propri cari, per questo non abbiamo voluto far venire meno. L'impegno straordinario, oltre la normale attività che viene svolta quotidianamente nei pressi dei vari presidi cimiteriali, parlo quindi sì di San Brunone ma anche a Talzano, voglio ricordarlo in questa occasione, in questo contesto abbiamo aumentato le squadre presenti con una serie di attività integrative che abbiamo attuato, tra queste, insomma, nuove spazzatrici anche elettriche, ma anche uomini e mi piace approfittare di questa occasione per dire che da più ormai di 20 giorni sono state installate delle videotrappole perché purtroppo viene anche utilizzata la zona di pertinenza del cimitero purtroppo senza alcun ritegno e senza alcun rispetto per i nostri defunti come insomma delle vere e proprie discariche a cielo aperto. Abbiamo attivato queste videotrappole che sono nelle, come dicevo, pertinenze del cimitero San Brunone e che serviranno a migliorare anche lo stato della situazione anche subito dopo e nel periodo insomma successivo a quello della festività dei defunti. Questo a garanzia, secondo le direttive del sindaco Rinaldo Melucci, affinché anche questa zona sia monitorata in maniera puntuale, precisa e chirurgica, me lo faccio a dire. Lo dica pure. Abbiamo più volte detto nel corso di questi appuntamenti settimanali con Chim Ambiente che Taranto come esempio virtuoso è stato definito al passo con le nuove normative comunitarie in termini sicuramente di ecocompatibilità e di transizione ecologica puntando sempre più all'implementazione della raccolta differenziata ma facendo un passo indietro in diversi settori l'innovazione è fondamentale serve adeguarsi per stare non solo al passo con i tempi ma anche per ottenere dei risultati migliori e maggiori ed allora proprio puntando all'innovazione partendo dal fatto che Taranto risulta essere esempio anche per altre città e non parliamo esclusivamente del sud Italia Taranto con la sua presenza e quella anche di alcuni amministratori dell'amministrazione Melucci appunto è stata presente a Rimini ad Ecomondo che è un evento leader in Europa quando si parla di ambiente quando si parla di sostenibilità ambientale Sì assolutamente noi insomma me lo lasci dire con una punta di orgoglio abbiamo potuto presentare quello che abbiamo messo in cantiere quello che stiamo effettuando in città nell'ambito del padiglione di Confindustria Cisa Ambiente che quindi ci ha dato l'opportunità di rappresentare ad altre realtà, ad altre città quello che noi stiamo svolgendo da un lato quindi l'introduzione della raccolta differenziata non solo nei quartieri col porta a porta ricordo Talzano, Lama San Vito, Tamburi e Paolo VI ma anche e soprattutto l'innovativa modalità degli ingegnerizzati quindi la presenza in città vecchia e al borgo e di questi giorni ormai ci sarà anche l'installazione di nuove postazioni ecco in questo contesto noi ci siamo ritrovati ad essere azienda già al passo coi tempi nell'ambito della introduzione della tariffa puntuale cos'è la tariffa puntuale? la possibilità quindi di avere e di far pagare al contribuente solo esclusivamente quello che si conferisce di indifferenziato quindi si cercherà nei prossimi anni di ridurre quanto più l'indifferenziato che mi lasci dire per alcuni diventa tutto ciò che non si vuole differenziare invece nella mente deve essere tutto ciò che non si può differenziare e quindi questo cambio epocale farà sì che noi Taranto sarà leader perché è inutile nasconderci dietro il dito noi abbiamo avviato la raccolta differenziata come città di Taranto con molti anni di ritardo però dobbiamo riprendere i tempi che insomma abbiamo perso e stiamo cercando di precorrerli e queste scelte coraggiose e lungimiranti dell'amministrazione Melucci ci vedono in campo in ultimo mi lasci dire in questo contesto di Rimini abbiamo potuto presentare un bel video che abbiamo fatto con i nostri dipendenti grazie all'aiuto di Comieco lo vediamo infatti grazie alla regia assolutamente ringraziamo la regia per la puntualità con la quale segue le nostre parole assolutamente e quindi rispetto a questo abbiamo prodotto questo video che è un po' un gioco di squadra quando si vuole far diventare un'azienda non un semplice presidio di obbligo che il lavoratore va e effettua le proprie ore e finisce lì noi stiamo cercando di mettere anche un senso di appartenenza anche perché il bene comune anche parte dal bene dal miglioramento dei range, delle performance della nostra azienda perché poi mi lasci dire una cosa Presidente che vale un po' per tutti gli ambiti lavorativi il luogo fisico di lavoro un po' come la seconda famiglia di ciascun lavoratore quindi è davvero importante per seguire poi quegli obiettivi che sono obiettivi comuni che ciascuno faccia la propria parte siamo le aziende di qualsiasi tipo e se siano come se fossero un po' un grande puzzle e ciascuno di noi nel nostro piccolo siamo un pezzettino del puzzle lei ha detto prima Presidente è importante ricordare sempre e sottolineare che nell'indifferenziato non deve andarci a finire tutto ciò che non si vuole differenziare ma in realtà ciò che non si può e quindi da diverso tempo io sono diverse le puntate che conduco questo appuntamento settimanale si parla molto di coscienza civica dell'essere un cittadino attivo di come poi i cittadini pian piano hanno preso coscienza sul territorio tarantino lei giustamente ha detto bisogna essere onesti siamo partiti in ritardo però puntiamo in alto puntiamo all'innovazione puntiamo ad un servizio che sia all'avanguardia perché bisogna recuperare quello che è il tempo perduto ormai è successo quindi quanto la coscienza civica è fondamentale però Presidente prima di rispondere a questa mia domanda mi avvisano dalla regia che c'è una telefonata quindi precedenza ai telespettatori buon pomeriggio buon pomeriggio sono Marilena da Taranto buon pomeriggio Marilena dica salve innanzitutto volevo complimentarmi col Presidente per quanto riguarda la polizia che in effetti c'è stata lì dalle parti del cimitero veramente eccellente e poi comunque ho chiamato per fare una domanda prego volevo sapere per quanto riguarda il concorso del rispettatore ecologico avevano detto che entro fine anno era stato detto che entro fine anno sarebbe stato fatto questo concorso ci sono novità riguardo cioè è rimasto uguale insomma ci saranno delle liste non lo so sì grazie grazie Marilena intanto io estendo i ringraziamenti per l'attività svolta ai nostri operatori insomma che poi sono veramente le braccia e il cuore di questa azienda insomma per quanto riguarda invece l'introduzione delle assunzioni come si diceva allora a fine mese avremo diciamo l'istruttoria completeremo l'istruttoria che riguarda gli ispettori ambientali e le figure dei laureati quindi ingegneri avvocati commercialisti che avevamo messo a concorso mentre per infatti il periodo natalizio avvieremo subito quella degli operatori ecologici e quella degli autisti quindi insomma in bocca al lupo Marilena tutte queste informazioni presidente però un cittadino interessato dove può trovarle? sul nostro sito c'è stato l'avvio l'indicazione dell'avvio su www.amutaranto.com piuttosto che chimambiente.it e troverà insomma tutte le informazioni del caso noi abbiamo dato grande pubblicità anche per mezzo della vostra emittente quindi insomma l'augurio è se ha partecipato o conosce qualcuno che ha partecipato di prepararsi per Natale speriamo di fare dei doni positivi quindi troveremo delle emittime pubblicate praticamente? ci sarà la pubblicazione di coloro uguale sono stati diciamo le domande sono state accolte positivamente e quindi poi le date del diario delle prove quindi la preselezione e poi man mano tutte le selezioni che dovranno essere fatte che si compongono di uno scritto quindi c'è la preselezione e poi uno scritto poi un orale e una prova materiale insomma sul campo per quanto riguarda gli operatori ecologici presso qualche strada per quanto riguarda gli autisti per mezzo di un nostro mezzo va bene grazie grazie signora Marilena la saluto grazie a lei buon proseguimento ed allora presidente rispondo ora alla mia di domanda parlavamo di coscienza civica sul tema della differenziata ma soprattutto della tutela proprio del posto in cui si vive quanto è indispensabile quanto è migliorata sul territorio tarantino ma assolutamente sì io sono 16 mesi che sono alla guida di questa mi onoro di essere alla guida di questa azienda e devo dire che diciamo grazie anche ai social grazie ai vostri interventi è molto migliorata l'attenzione del cittadino nei confronti dell'ambiente ma soprattutto anche la collaborazione faccio un esempio banale ieri dei cittadini ci hanno mediante i social ci hanno rappresentato che c'erano degli operatori che stavano sversando degli ingombranti per strada in diverse vie della città noi grazie alla polizia municipale voglio ringraziare il comandante nonché il nuovo neoassessore Ciraci siamo riusciti a intervenire abbiamo sanzionato questi cittadini sono numerosissime ormai le richieste dei cittadini a collaborare quindi a rappresentarci delle parti non ci si gira più dall'altra parte perfetto assolutamente questa è già una grande vittoria che vogliamo scrivere all'aumentato senso civico come rappresentava lei della città di Taranto che davvero sta diventando sempre più un esempio virtuoso le faccio un unico un altro esempio città vecchia nei giorni del sabato e la domenica diventava diciamo così una zona un enclave che non veniva dai cittadini diciamo goduta oggi invece gli stessi cittadini ma anche i turisti vengono all'interno della città e la ritrovano anche pulita e questo è un grande elemento di civiltà che sembra scontrato si riapprovano di loro territorio sì assolutamente è una bella cosa che noi vediamo perché riscontriamo pieno di turisti non era mai accaduto è un senso di appartenenza assolutamente abbiamo scoperto abbiamo un'altra telefonata buon pomeriggio pronto? è con me? pronto? buon pomeriggio io la sento lei mi sente? sì buonasera buonasera con chi parlo? Giuseppe da Talzano buonasera Giuseppe dica beh niente volevo solo dire presidente che intanto come cittadino ringrazio perché ci passa le buste per la spazzatura però volevo fare un'osservazione le buste dell'umido e dell'indifferenziata dopo due mesi non servono più si strappano quindi perché ci devono dare un anno di buste se io dopo due mesi poi le devo buttare che sono inutilizzabili presidente grazie signor Giuseppe ecco insomma noi adesso valuteremo rispetto a questa rappresentazione che mi ha fatto questa doglianza vedremo adesso di valutare insomma se ci sono altri casi oltre al suo spero di no ma nel caso in cui ci dovessero essere delle contradduzioni insomma noi vedremo di acquisire delle buste più resistenti fatto sta caro Giuseppe in altre realtà in altre città le buste non vengono consegnate dall'amministrazione in questo caso per il tramite di chimambiente ai cittadini ma le comprano i cittadini quindi insomma cercheremo i raffetti li ho ringraziato no 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 evidentemente mi pare di capire sono quelle biodegradabili ce le fornite per un anno però dopo due mesi noi su quello ecco su quelle che riguardano appunto le biodegradabili dell'organico penso sia un po' ma se il don Giuseppe si riferisse a quelle per l'organico ho capito bene organico e indifferenziato l'indifferenziato miglioreremo sull'organico diciamo quella è la qualità che bisogna usare la qualità è quella perché devono essere facilmente diciamo biodegradabili appunto per evitare che diventino poi un peso nei vari impianti di compostaggio è appunto per questo che dopo due mesi già non servono più che si aprono da sole proveremo a trovare qualche altra soluzione grazie una giusta via di mezzo grazie signor Giuseppe grazie per aver telefonato buon proseguimento grazie a voi ed andiamo avanti perché dobbiamo parlare anche di quella che è un'altra novità che è il compattatore fotovoltaico Chima 4.0 che è dettornato all'isola ecologica Corvisea non vorrei sbagliare il suo malaccento di via Blandamura dopo la 49esima settimana sociale dei cattolici italiani tenutasi a Taranto settimana sociale dei cattolici italiani tra l'altro che ha riscosso tantissimo successo avete ricevuto il plauso sia voi sia l'amministrazione Melucci da più parti per quella che è stata la gestione e l'organizzazione nel suo complesso la stessa isola adesso riapre con degli orari di apertura che nella settimana sono li leggo velocemente io il lunedì dalle 7.30 alle 13 il martedì dalle 12.30 alle 18 il mercoledì dalle 7.30 alle 13 il giovedì 12.30 alle 18 venerdì 7.30 alle 13 ed il sabato 7.30 alle 13 mi dicono dalla regia che abbiamo un'altra telefonata buon pomeriggio buon pomeriggio sono Nicola da Foggia Nicola da Foggia dica Nicola essendo che mi ritengo un pugliese quindi mi faccio i complimenti per la vostra organizzazione è quello che avrebbe bisogno anche questa città e io la domanda che volevo fare al presidente se questo tipo di esperienza si può espandere in tutta la Puglia visto che molte città come la nostra siamo proprio rovinati per quanto riguarda i rifiuti allora presidente da Foggia le fanno questa domanda si può estendere questo vostro modus operandi mi pare insomma tra l'altro che voi abbiate già contatto con tutti coloro i quali vogliono saperne di più perché magari poi la strada intrapresa da qualcuno può essere giustamente seguita da qualcun altro se i risultati sono soddisfacenti può essere un po' da esempio ringrazio intanto il signor Nicola che ci chiama da Foggia grazie a voi di nuovo complimenti a Taranto grazie noi abbiamo avuto in realtà come ben diceva anche lei dei rapporti con Amiopuglia Amiopuglia è la società in house del comune di Bari ma che anche gestisce il comune di Foggia rispetto all'introduzione dei sistemi ingegnerizzati e al Chima 4.0 che è quella isola mobile che abbiamo istituito isola ecologica che prevede l'utilizzo del fotovoltaico quindi delle aperture senza utilizzo di elettricità in alcun modo e stiamo lavorando noi ringrazio ancora signor Nicola stiamo facendo il nostro meglio stiamo invertendo la rotta ci stiamo dando da fare e benvenga qualsiasi collaborazione per migliorare noi abbiamo sicuramente da acquisire informazioni positive dagli altri così che anche gli altri hanno informazioni da poter acquisire per migliorare la propria azienda e sempre questo rientra nell'ottica della collaborazione anche tra diversi enti e diverse istituzioni prima di ascoltare un attimo la prossima telefonata mi avvisano dalla regia però devo ricordarvi un numero importante bisogna utilizzare il numero verde 800 013 739 o scaricare l'app gratuita Ricicleamrio per prenotare il ritiro dei rifiuti ingombranti lasciare un ingombrante per strada lo ricordiamo viene sanzionato con una multa di 500 euro in più lasciatecelo dire è anche un gesto di grande inciviltà e di poco rispetto per il territorio in cui si vive ed allora pronto o buon pomeriggio? Pronto? Sì io la sento lei mi sente? Sì la sento Da dove chiama? Io chiamo da Tarando dal Palamazzola di Tarando Dica pure signora Volevo dire quando c'è stato il fatto degli arcivescovi hanno pulito tutta la zona ora che non c'è niente più è tutto sporco gli alberi i giardini tutti sporchi tutto tutto ma ridotto come mai non vengono più in turbina pulire facciamo rispondere subito il Presidente Mancarelli Presidente praticamente le viene detto quando c'è stata la 49esima settimana sociale dei cattolici Taranto splendeva la zona era tutta pulita adesso non più come mai? Beh insomma io chiederei alla signora insomma domani vengo a prendermi un caffè dalle sue parti e l'offre un caffè al Presidente Mancarelli signora come? Certamente così domani verrò a controllare personalmente prenderò atto di questa doglianza sicuramente guardi non le nascondo durante il periodo della settimana sociale abbiamo diciamo così trasferito la maggior parte del nostro impegno oltre che nel centro e in alcune periferie direttamente in quella zona perché dovevamo fare come quella era la zona che in quel momento necessitava maggiormente anche perché era la zona che veniva calpestata in maniera imponente da più persone ricordiamo che lì sono arrivate almeno 3-4 mila unità che quindi insomma passavano dalla zona antistante il Palamazzola fino ad arrivare a Blandamura dove c'era la tenso struttura dove cenavano e pranzavano sicuramente l'impegno nostro signora anche con l'avvio delle assunzioni che stiamo facendo a fine anno è quello di migliorare il servizio io comunque domani pomeriggio sarò lì al bar lì vicino che lei conosce sicuramente che è di fronte alle due torri più grandi vicino al Palamazzola per prendermi un caffè e controllare personalmente la situazione così vedrò di tirare le orecchie a qualcuno chiedo scusa comunque pure gli alberi gli alberi li abbiamo detto tante volte ma non l'hanno mai aggiustati mai tagliati signora gli alberi dobbiamo attendere il periodo in cui si possono potare o comunque tagliare che è insomma dall'inizio dell'anno io farò sarà mia cura rappresentare la direzione ambiente che non è chimambiente ma la direzione ma insomma affinché possano rendersi parte diligente e fare i tagli o comunque ridurre insomma diciamo il disagio che mi ha rappresentato comunque tra le due torre abito io perfetto il bar non facciamo pubblicità però il bar ce l'abbiamo di fronte io domani se vuole perché noi insomma serviamo anche a questo se vuole signora i miei tecnici di regia lei può lasciare privatamente quando però riprendono la telefonata non in diretta privatamente può lasciare il suo recapito di telefono il suo numero cellulare così che noi a fine puntata lo consegniamo nelle mani del presidente vi accordate su dove incontrarvi da poter vedere quella che è la situazione che lei descrive signora se a lei fa piacere può lasciare il suo numero ai miei tecnici di regia poi provvederanno a consegnarlo al presidente Mancarelli va bene? va bene la ringrazio grazie a lei signora buona serata ed allora la coscienza civica l'impegno il sentirsi cittadini attivi il non girarsi più dall'altra parte il riappropriarsi di quelli che sono dei luoghi che appartengono alla cittadinanza tutto parte anche dai più piccolini ed allora la sensibilizzazione è un aspetto fondamentale importantissimo quando un bimbo dice ad un altro non devi lanciarlo a terra non essere incivile mettilo in tasca e portalo a casa e poi lo butti nella spazzatura di casa tua lì è stato fatto un grande passo già in realtà ed è per questo che c'è stata anche la consegna di pattumelle in un istituto comprensivo esattamente nel pertini di Taranto fisicamente c'è andato lei presidente Mancarelli con l'assessore Cinque Palmi avete insomma presentato agli alunni vediamo anche delle immagini il percorso che durerà poi tutto l'anno scolastico e i bimbi sono la parte più felice sono coloro i quali accettano tutto con entusiasmo quasi una gara interna tra le diverse classi per cercare di capire a fine percorso chi differenzia nel modo migliore questo è dunque il primo step del programma ricicla scuola Taranto tra l'altro queste sono le immagini che vediamo e riguardano solo un istituto ma questo è un progetto che interesserà diversi istituti comprensivi e circoli didattici di Taranto ma poi ci saranno una serie di iniziative in programma degli incontri delle visite guidate poi su quelli che sono gli impianti di Chima Ambiente e anche naturalmente un contest che premierà la miglior classe il miglior alunno nella raccolta differenziata i bambini danno sempre grande soddisfazione Presidente assolutamente sì in questo caso parliamo come diceva dell'istituto comprensivo Pertini di Paolo VI ma io veramente non per maniera devo veramente ringraziare i docenti noi siamo stati lì e un quartiere dove è avviata già la raccolta porta a porta io la prima domanda che ho fatto è stato ma oggi che cosa si conferisce bene la maggior parte dei bambini erano a conoscenza del giorno di conferimento una grande straordinaria rivoluzione che stiamo facendo e ringrazio appunto la preside Giannico ma anche tutto l'istituto i docenti davvero stiamo facendo un percorso straordinario lo abbiamo fatto con altre scuole partendo dalla scuola consiglio in centro a città vecchia ma anche in altre zone lo faremo per tutte le scuole è un impegno che abbiamo preso con l'assessore alla pubblica istruzione Cinque Palmi perché dai bambini si formano i migliori tarantini e guardi noi abbiamo fatto anche un contest che prevede tra le tante cose anche la richiesta di fare delle foto sul diciamo il conferimento come avviene a casa quindi se ci sono la tripartizione dei rifiù dei cestini per vedere concretamente se i genitori su prescrizione dei bambini che molto spesso sono più avanti dei genitori insomma hanno la tripartizione come prescritto della carta cartone plastica e metalli dell'indifferenziato dell'organico e della frazione del vetro questo stiamo facendo perché pensiamo senza nasconderci dietro un dito siamo partiti tardi lo dicevamo prima vogliamo diciamo bruciare le tappe lo stiamo facendo c'è davvero un impegno straordinario a 360 gradi anche della dirigenza di Chimambiente che voglio ringraziare per la passione che non è diciamo usuale ecco noi ci stiamo appassionando a questa azienda lo stiamo facendo consapevoli che domani dobbiamo lasciare un paese una città migliore di quella che ci è stata lasciata e allora siamo in chiusura mi lasci dire presidente a tutti i tarantini riappropriatevi delle vostre bellezze riappropriatevi dei vostri territori riappropriatevi del giusto decoro dei luoghi un numero lo dobbiamo sempre ricordare che è l'800 013 739 questo è il numero verde assolutamente gratuito per prenotare il ritiro dei rifiuti ingombranti oppure si può scaricare un'app gratuita riciclario per prenotare appunto lo stesso ritiro lasciare un ingombrante per strada viene sanzionato con una multa di 500 euro in più è un segno di grande inciviltà e di non correttezza nei confronti propri e anche degli altri presidente una chiosa finale poi ci dobbiamo salutare anche oggi assolutamente vogliamo ridurre drasticamente le sanzioni che abbiamo elevato con le nostre videotrappole si diceva 500 euro ma anche tante da 50 euro perché impropriamente si effettuano sversamenti di rifiuti dove non vanno fatti negli orari non fatti vogliamo ridurre perché non vogliamo raggiungere l'obiettivo purtroppo che stiamo raggiungendo di oltre 80 mila euro di sanzioni quindi insomma ai cittadini di essere civili e di voler amare la propria terra questo stiamo cercando di inculcare lo facciamo dai bambini ma soprattutto ai più grandi l'invito a voler bene della propria Taranto Chi ma informa dunque torna esattamente tra una settimana e la ringrazio per essere stato con noi Presidente Mancarelli grazie a tutti voi buon proseguimento di giornata salve grazie a tutti